vediamo ora invece come funzionano i mascherini luma o il luma matte allora andiamo innanzitutto a creare una forma in questo caso un rettangolo che copra il nostro logo come potete vedere abbiamo un livello di sfondo e un livello per il logo abbiamo creato un livello che è pieno di colore esattamente come faremo con un mascherino alfa andiamo ad applicare un mascherino luma andiamo ad applicare un luma matte e vediamo che il nostro livello forma è scomparso e sta facendo qualcosa sul nostro livello del logo ne sta cambiando l'opacità e la modifica in base al colore infatti come potete vedere modificando il colore diminuisce l'opacità che viene attribuita al livello su cui è applicato il mascherino luma ora questo che cosa significa lo vado a rimuovere e lo riattivo così lo vediamo questo significa che agendo sul riempimento e utilizzando per esempio un gradiente il gradiente poi da questo pannello può essere modificato opportunamente mettiamo il punto iniziale a zero e così lo possiamo gestire in questo modo agendo opportunamente su questo gradiente noi possiamo trasformarlo possiamo trasformarlo in una maschera di trasparenza ovvero torniamo sul nostro livello del logo e attiviamo il mascherino luma in questo momento non sta succedendo niente nel momento in cui io andassi ad attivare la posizione del mio mascherino quello che abbiamo ottenuto e questo effetto a questo punto io potrei posizionarmi diciamo un secondo e attivo il keyframe della posizione dopodiché mi metto a 10 frame e porto il mio livello fuori dall'inquadratura e si crea automaticamente un nuovo keyframe a questo punto l'effetto che ho ottenuto è questo si passa da un momento di in cui il livello è praticamente invisibile e diventa via via meno trasparente fino a diventare visibile 100% ovviamente il mio livello è sempre condizionato dal fatto che è stato applicato un mascherino luma questo significa che se io decidessi di portarlo fuori dal mascherino diventerebbe invisibile quindi questo effetto è visibile solo all'interno della forma che abbiamo usato come matrice per il nostro mascherino luma grazie a tutti